ciao ragazzi sono happy, bentornati su mega wow, conoscete fortnite? è fighissimo, io ci gioco sempre e one shot tutti, avete presente i balletti che fanno? oggi ho spiegato charlotte alla fortnite challenge, vediamo quante mosse riesci a fare, vai col video! ciao ciao ragazzi e ben tornati in questo nuovo video con chi è charlotte e oggi siamo qui sul canale mega wow, prima di iniziare voglio salutare happy, ciao happy e voglio dirti una cosa super spettacolare perchè io sono super gasata perchè oggi faremo balli, no non voglio spenerare i balli, vediamoci gli occhiali perchè se a me tagano non mi si rompono e sono bellissimi, oh però va bene, iniziamo ok va bene, non è andato malissimo ecco, è andato bene ragazzi ma lo sapete che quando la professoressa si gira a scrivere alla lavagna, io inizio a fare ta 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 ta, speriamo che la professoressa non guardi questo video e adesso passiamo al prossimo palo di Fortnite e ora chitarra da notare la corda rossa ma dei tagli ok ok basta la chitarra non fa per me infatti non per questo faccio pianola e non faccio chitarra musica perciò a te resti lì e io vado a prendere la pianola ok passiamo al prossimo oh io oh io ok sfida super si passiamo al prossimo oddio acqua 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 ok davvero stancante l'ho spazzolata però questa mi è riuscita abbastanza bene scrivete giornicamente se mi è riuscita da 1 a 10 quanto l'ho fatta bene prossimo ti pare la mia scuola andava di modo a fare non so perché però adesso passiamo al ballo mi stavo confondendo completamente passiamo al prossimo passiamo al prossimo ho sudato oggi ho sudato oggi ho sudato oggi è finito dub ma non è finita qua ho fatto praticamente 24 dub o qualcosa del genere ed è proprio finito e beh io direi di mostrare al prossimo balletto cosa chi me lo fa fare chi me lo fa fare lo voglio come balletto di phone però questo quando tipo mi sparano in fornite io voglio fare attenzione 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 no 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 ecco adesso voi dovete appoggiare il telefono il computer il tablet da qualche parte sul tavolo dove volete e ballare insieme a me perché ci divertiamo oggi avrò tutti i capelli scapellati ci sono i peggiori commenti se sono stato proprio e passiamo al prossimo ballo ok oddio mio questa cintura mi sa un po' stretta adesso ballerò mi cadono forse non lo so adesso faremo loser sei un petante sei un petante sei un petante sei un petante i peggiori commenti sono ancora qui e adesso wiggle 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 aiuto è difficile ma proprio tanto è praticamente impossibile fare wiggle non so come si pronuncia wiggle tutto allora pelicotteri questo video qua si conclude qua iscrivetevi al canale youtube maile wow lasciate un bellissimo like se lo mettono a tenere ma 3000 like e ciao happy ciao pelicotteri forse è più brava mia nonna no dai scherzo non è per niente facile e voi la sapreste rifare? fatemi un video e taggatemi nelle vostre stories di instagram e com'era quella? iscrivetevi al canale